che cosa sarebbe la vita senza la musica ce lo dimostrano queste giovani e giovani musicisti provenienti da vari paesi del mondo uniti nella costruzione di una memoria collettiva a partire dalle proprie identità del proprio vissuto di questo periodo così difficile della storia contemporanea e che ci accomuna dunque stanno creando qualcosa di nuovo attraverso la condivisione di un linguaggio universale che è quello della musica ma che in questo caso ci racconta qualcosa in più grazie a tutti